Che sta succedendo? Da dove vengono questi colpi? Mein Führer, posso augurarle buon compleanno? Mein Führer, il centro di Berlino è sotto il fuoco dell'artiglieria. Versagliano con granate la porta di Brandeburgo e Reichstag è la stazione di Friedrich Strasse. Ma da dove sparano i cannoni? Mein Führer, non si sa, ne parlavo con Kohler. Kohler? Viame Kohler. Kohler, lo sa che Berlino è sotto il fuoco dell'artiglieria? No. Ma come? Non le sente le cannonate? No, io mi trovo a Wilpark Werder. La città è sotto attacco. I russi devono aver preso un ponte ferroviario sull'Oder. Il nemico non ha batterie ferro trasportate sull'Oder. Non è fuoco di cannoni a lunga gittata. Il comando della batteria contraerea situata nello zoo comunica che a sparare sono cannoni che hanno al massimo un calibro di 10 o 12 centimetri. Le batterie russe devono essere nei dintorni di Marzano. A nemmeno 12 chilometri dal centro di Berlino, i russi sono già così vicini. Dovrai far impeccare quelli che sono al comando della Luftwaffe. Questo è inaudito. Inaudito! Oio siamo 12 chilometri dal cuore della città. Ma perché me lo dica lo devo essere io a chiederlo! Mein Führer, forse sono davvero cannoni a lunga gittata. Lei ha parlato di un ponte ferroviario sull'Oder. Sciocchezze! Posso chiederle come si chiama? Margarete Lorenz, Heilmann Führer. E da dove viene? Da Fulda, Heilmann Führer. E lei come si chiama? Ursula Puttkamer, Heilmann Führer. Non è necessario il Mein Führer, mi dica semplicemente da dove viene. Fragoforte sul meno, Meiff. Mi chiamo Anna Potroski, sono nata a Berlino, per la precisione originaria di Pankoff. Edwig Brandt, di Kraltsheim, Svevia. E come si chiama lei? Draudl Hums, e sono di Monaco. Una ragazza di Monaco. La mia Blondi non le farà niente. Sei un cane talmente intelligente, vero? È senz'altro molto più intelligente di alcune persone. Sia da qui, signora Suagia. Non ha motivo di essere nervosa. Quando ho detto ho comminto una tale quantità di errori che le sarà impossibile farne tanti quanto me. Mi sembra molto giovane. Quanti anni ha? 22, Mein Führer. Camerati del popolo tedesco. E il Camerate. Membri del partito. Credo avvenga assai raramente che un uomo possa dichiarare di fronte ai suoi sostenitori della prima ora, dopo quasi vent'anni. Che nel corso dei vent'anni trascorsi non è stato necessario apportare alcun cambiamento al programma originario. Signorina, credo che sia meglio provare di nuovo. Grazie a tutti.